data la pettinatura la brigitte bardo bardo bianco e nero stasera perché fa vintage andiamo a caccia della pagina un calma e sangue freddo siamo a posto la codetta che qua ciondola con la mia striscia da pepe la pusola allora ecco la live ora vediamo se riesco anche a spacciarla in giro e poi arrivo ciao ada buonasera allora 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 arrivo spaccio un attimo live in giro per il web e arrivo ciao pina grazie non c'ho niente stasera a parte i capelli sciolti va bene allora ciao pina anna buonasera allora allora spaccio un attimo la live in giro se me lo fa fare ecco e arrivo arrivo da todos i tre gruppetti canonici allora live del lunedì giusto per marta buonasera ciao luana grazie pina però il bianco e nero sottolinea di più le strisce da pepe la pussola che ho nei capelli allora gruppo arrivo è ciao andrea buonasera ho perso il filo aspetta ho fatto due gruppi me ne manca uno sto cotta non ce la posso fa allora fantasmi per il normale mister esoterismo fantasmi magia libri occulto a gruppo del nido del corvo elite me stavo fumando quello che è il mio di gruppo proprio ormai sono andata non ce la posso fare dall'ultimo stadio o non riuscite ad aprire qua ma non appaio nei commenti nuovi vediamo se buonasera maria teresa allora ok mi appaio nei commenti ah ecco qualcosa è apparso manu buonasera e io aggiorno un attimo ce la posso fare non volevo vederla su watch mannaggia a me sta roba qua poi di watch proprio non mi piace e la apro da qua perché sennò da qui non riesco a leggere bene divento matta chiara buonasera ok ok allora se tutto va bene oh mi si è aperta mosaregge ok così levo i commenti da lì perché sennò mi incasino cassandra buonasera dicevo stasera ho messo il bianco e nero perché sono pettinata la brigitte bardo bardo e quindi faceva vintage c'è so già io da vintage allora ogni tanto devo controllare opla lo scotennata niente guardavo che c'avevo un sacco dei commenti in giro ma adesso non posso rispondere di là e sta di sotto sta di sotto a farsi gli affari suoi stava guardando tiktok qualcosa del genere credo luce buonasera molto sindia sindi looper quanto l'amavo tra l'altro io sono sono del periodo dei fan di sindi looper ah girl just a one of a fun magari a cantarla come lei amo sindi in effetti del periodo giusto ero innamorata di sindi looper ero innamorata di nina hagen e poche altre la torta che ti ho fatto te la sei maniata no non l'ho potuta fare perché era convinto che ci fosse la nutella in casa invece io ero già passata dalla nutella e quindi ce n'era tanta così per cui non l'ho potuta fare me la fa domani perché compro la nutella oh neo sister buonasera francesca buonasera si bruciacchiamo un po' di paletto ogni tanto ci sta taori ogni tanto un po' di paletto ce vuole qui tra sigarette candele pali incensi c'ho le talsideri in soffitta si io sempre io vivo con il paletto eternamente questo l'avevo preso nuovo oggi perché l'avevo finito l'altro io sempre qua al pc ogni tanto sfumazzo a parte la purificazione di casa e tutto non raggiante ma perché mi vedi con i capelli sciolti perché non li tengo mai ma ieri li avevo acconciati allora poi oggi ho detto li lascio sciolti c'ho una testa di capelli così si ieri perché lo dicevo prima siccome mi sono pettinata in stile Brigitte Bardot molto vintage il black and white dava un senso di vintage maggiore ci stava bene che bella questa serata in live è come fare un pigiama party non darmi cattive idee perché potrei anche apparire direttamente in pigiama ciasveva chiedo se accendo una candela per un defunto poi devo uscire la posso spegnere e riaccenderla poi anche più volte finché non è finita sì anche se sarebbe meglio lasciarla consumare ma puoi spegnerla ma non soffiandoci sopra devi soffocare la fiamma o ti lecchi due dita le bagni e fai così sul picciolino della fiamma oppure con un cucchiaino soffochi la fiamma e poi la puoi riaccendere però mai soffiarci perché se ci soffi interrompi il collegamento e non gli arrivano più le energie ho fatto proprio oggi il giro di casa col palo santo io eternamente ogni tanto sembro il fantasma con la candelina che gira con i paletti santi per casa o con gli smucci di salvia bianca carolina buonasera moira buonasera andrei buonasera io c'ho ancora la rantega da bronchite quasi passata però domani ve lo dico io torno con i miei capelli raccolti a mucetto stile nonna perché io non ce la faccio a stare così starò anche bene non lo so lo dite voi ma mi danno un fastidio no la torta non l'ho potuta fare cioè non me l'ha potuta fare perché non sapeva che mi ero mangiata tutta la nutella e quindi domani ricompro la nutella e me la fa ares buonasera stregaccia buonasera buonasera Giovanna buonasera Elena grazie grazie Francesca ecco la madre finché non si addormenta perché lei mi dice no ma io sono interessata ma poi durante le tue live mi addormento avevo perso qualcuna Emanuela sto a lavoro e rubo un po' di tempo per vederti che bello il mio genero finalmente si legge Tiziano buonasera è perché la pettinatura era vintage e allora ci stava bene il video vintage io abbino sempre tutto oh la secretaria si ma me danno un fastidio io non so come fate davvero non sto scherzando eh io ho 48 anni ma non so come fate voi belle donne giornaliere che la mattina vi alzate vi preparate vi truccate andate a casa la sera vi struccate ma io non ce la potrei mai farcela cioè io la mattina prendo la saponetta mi fretto la faccia la sciacqua mi asciugo con l'asciugamano esco fino all'indomani non ci penso più e già è una rottura di scatole quella non è colpa mia e che mi metto comoda bene dal prossimo lunedì segui tutta la live in piedi così non ti addormenti poco ascendente bilancia ma direi quasi niente secondo me c'è qualche errore di calcolo del mio ascendente scusate la domanda vedere i cuori ho provato a cercare ma non l'ho trovato che significato ha? io li vedo sul pane taglio il pane le briciole vengono a forma di cuore normalmente i cuori aspetta che ho perso il segno normalmente i cuori chiara sono sempre un sono qui ciao ti sono accanto ti sono intorno ti vedo ancora da parte dei defunti nostri che ci sono che sono legati a noi a livello animico quindi è un presente è un modo di dirti che ti continuano a guardare super smooth abbiamo abbiamo che nera comunque che concime metti i capelli shampoo a volte della lid a volte dell'eurospin e quando finisco lo shampoo ogni tanto mi li lavo anche con la saponetta e basta Io non sono proprio per i prodotti Ma abbini tutto Io sempre Ho sempre avuto questa fissa di abbinare tutto E ognuno ha le sue turbe Io ho questa di turba Ciao Mari Oggi mi sono segnata le domande Si possono fare sulle sibille Se vuoi certo Puoi fare tutte le domande che vuoi Puoi anche chiedermi cosa ho mangiato stasera Le live sono per chiacchierare Quando si chiacchiera tra amici Si parla di tutto Non è un problema Antonella buonasera Prego Chiara Io a stessa tua età Mi sono ripromessa Solo un po' di matita nera e mascara al volo Massimo una matita e rossetto Sulle labbra Che devo uscire con maritozzo Se devo uscire con maritozzo amica Guarda io Sono i due estremi Io o non mi trucco per niente E rimango Cosina lavata di faccia E via Che è il 99,9% delle volte O quella volta che mi trucco A me il trucco si deve vedere E' un po' come quando mi tingo i capelli Io me li tingo due volte all'anno Ma faccio delle tinte Che si vede che sono tinte Perché a me il nature Non mi è mai piaciuto Non mi piace nemmeno il trucco naturale A me piace il trucco che si noti Da ragazzina sembravo un muoviro Orfei Da come mi truccavo Poi con il tempo ho capito Che se mi trucco troppo Devo togliere troppo Ed è quello che io non ho voglia di fare Non ho voglia di pulire dopo Isabel ciao buonasera Sono giovane oggi E' perché me l'hanno detto in tanti Che è il mucetto invecchia Però è comodo Francesca buonasera Però una volta ti truccavi Lo dimostro nei video su youtube Comunque stai benissimo Con i capelli sciolti Il primo anno su youtube Non mi conosceva nessuno E allora facevo l'effetto scenico Inoltre avevo la mania sempre Per abbinare le cose Di abbinare il trucco All'argomento di cui parlavo Infatti ho dei trucchi assurdi Dove ho l'orologio disegnato in faccia Cose di questo genere Poi mi sono leggermente scuciata Appunto di struccarmi dopo Il mio problema è struccarmi Non è truccarmi Truccarmi mi diverte anche Ma dopo il pensiero di togliere Tutta la marandà Non ce n'ho voglia Con la lavata di faccia Sei bellissima lo stesso Grazie Maria Teresa È la cosa più comoda Io proprio con i prodotti Non ho mai avuto feeling Ho qualche roba giù in bagno Perché me l'hanno regalata Amici e parenti A compleanni O cose varie Persone che Nel 90% dei casi Non mi conoscono per niente Perché sennò saprebbero Che io amo di più Se mi regali un cacciavite Più non so che una crema Per la faccia Però Devi usare il tiktok Per i video Che hai i filtri E non serve a struccarsi Durano troppo poco Fra Non me li fa fare Video di mezz'ora E comunque i filtri Sono osceni Perché Se ti muovi male La bocca ti arriva qua Se fumi C'hai la bocca Sopra le mani No dai Meglio così Una lavata di faccia E via Sono scotennata Ma anche la pettinatura Sono scotennata Mi esce scotennata Anche se doveva essere Scotennata Io sono troppo Poco attenta Per fare certe cose Buonasera Francesca Fai tre minuti Poi tre minuti Ma mi hai visto? Io registro i video At Cazzum Non li guardo nemmeno Cioè penso manco Perché mi annoio A risentirmi E li carico Su Youtube Come sono venuti Sono venuti Non me ne frega niente Grazie Luana Adam buonasera 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 Sì no no Io sono troppo Io non controllo Mai niente Anche i miei libri Non so se Ve ne siete accorti Io nemmeno Li rileggo Ho amiche Scrittrici Che ci mettono Tre anni Per pubblicare Un libro Perché lo rileggo Non lo cambiano Ci mettono la virgola In più Fanno la sfumatura Diversa Io li scrivo Nemmeno li rileggo E li pubblico Vero È un vintage got Una cosa Ci stava bene Stasera Stasera è così È tutto vintage Compresa quella che parla Tanto ridendo e scherzato Sono 48 48 significa vicino ai 50 50 è mezzo secolo Che ci piaccia o no Ma ti annoi tu? Ad ascoltarli Dobbiamo ascoltare noi Vabbè ma Io mi annoio a sentire cose Che so già Le ho dette io Scusa Se ascolto il tuo di video Non mi annoio Perché è una cosa nuova Ho preso un bel mazzo nuovo Ok Di Sibille Ok Ma se purifico e rendo mio Con una pietra Quella pietra Resta nel sacchettino Beh puoi lasciarla nel sacchettino Puoi toglierla Ma non ho capito Come fai a renderle Tue con una pietra Le pietra Le pietre non legano Le pietre non legano Non è La pietra non serve per collegare le Sibille a te Ci sono dei rituali per dedicarle a te Eccetera Per Per intestarsele spiritualmente Ma non c'entrano niente Ma non c'entrano niente le pietre Sembra Frankenstein Junior Esatto Potrebbe andare peggio Potrebbe piovere Faccio anche l'occhietto storto come Igor In un negozio Ho intravisto i tarocchi degli ignomi Li conosci a cosa servono Sembrano carini Li comprerei a priori Ma guarda Maria Teresa Alla fine I tarocchi Se parliamo di tarocchi Non di altri tipi di carte Eccetera Ma i tarocchi Sono sempre loro Che poi siano degli ignomi Delle fate Dei vampiri Dei fantasmi Sono sempre loro Cioè c'è sempre il bagatto C'è sempre la papessa C'è sempre Solo che il disegnino Viene più diciamo Legato Ai nostri vari interessi Che è più interessato Al piccolo popolo E più legato appunto Magari a Gnomi Fate Folletti Io per esempio C'ho quelle dei fantasmi Da qualche parte Ho le mie adorate Di Dilan Dog Ho le ultime egizie Che mi ha regalato Autun Bellissime Però gli arcani Alla fine Sono sempre gli stessi Cioè i tarocchi Sono sempre loro Sono sempre tarocchi Il significato Non cambia Hai voglia di parlare Di ciò che ha scritto Adam Sulla sua bacheca Nel post Dove ti è taggato Riguardando il tempo E la lunazione Stava facendo Stava facendo Un'osservazione Sul fatto Che l'intera invenzione Del calendario gregoriano Cioè il calendario Che noi conosciamo Quello dei 12 mesi Non fosse in realtà Una sorta di enorme Incantesimo Per Chiudere In qualche modo Le menti Delle persone In effetti Già solamente Vivere Con un ritmo Temporale Ci fa uscire fuori Da ciò che invece È naturale Per l'essere umano Lo scandire Del 13 Come le 13 lunazioni Le 13 lune al parto È una cosa Che è In natura È naturale Mentre invece I 12 mesi Sono innaturali Tanto è vero Che per farli Coincidere Al calendario gregoriano Hanno tolto Due giorni A febbraio Facendo Saltare Poi al 29 Ogni 4 anni Questo perché? Perché se no Non tornerebbero i conti Perché il calendario gregoriano È sbagliato Ma Stavamo appunto Discutendo Se non fosse stato Non un errore Di calcolo Ma proprio Un errore Voluto A livello Di incantesimo A livello Di blocco Vibrazionale Che chiude Le menti Delle persone In quella sorta Di cupola temporale Imposta Dal calendario Stesso È un discorso Estremamente grosso Estremamente complesso Buonasera Angie Sì esatto Stasera Vintage Proprio Come dicevo all'inizio Come ho ripetuto Tre volte Alla Brigitte Bardot Bardot Guale proprio Guale guale Paris Eccomi Mi devi prestare Un po' Della tua dote Di non controllare Niente Io ho il problema Che controllo Tutto diecimila volte E neanche mi sembra Abbastanza Ce l'hanno anche Alcune delle altre Mie consorelle Tipo Aliona Tipo Giovanna Lucido Loro Loro Quando fanno un lavoro Qualsiasi lavoro Il perfezionismo totale Lo ricontrollano 897 volte Io In effetti a volte Faccio anche da mangiare Che buono stavolta Come l'hai fatto Boom Ricordo Mi sembra di averci messo Le stesse cose Ma non ne sono particolarmente sicura Ultimamente ricordo i sogni E ne ho fatto uno In questi giorni Dove vedevo Dalla finestra Passare molta acqua Tipo alluvione Di color mattone Al risveglio Avevo sensazione Di un brutto presagio Oggi ho ricevuto Notizia Della morte Di un parente Vero che sognare Acqua agitata È un presagio Sì Cassandra Normalmente Più che acqua agitata L'acqua agitata È un presagio Di Una qualche notizia Che ci scombina Però tu hai sognato L'acqua sporca Cioè l'acqua color mattone È quello Di solito È il sinonimo Di Malattia O di morte Di qualcuno Diconosciuto Buonasera Francesca Buonasera Cinzia Sei molto Barbarella Anche magari Cioè mettere la firma Pura sembra Barbarella Ma no Magari Somigliassi a Barbarella La pietra La pietra usata Nel rituale di purificazione Insieme alle erbe E incenso Ora sono nel sacchettino Tutti insieme Per questo parlavo Della pietra Invece Per caricarle Espongo Alla luna piena Oppure le purifico Dopo l'uso E basta Allora La purificazione È una cosa La ricarica È un'altra Per purificarle Ogni tot Col fumo di palosanto Col fumo di salvia bianca Anche col fumo di rosmarino Si possono purificare Oppure con i kit apposta Di purificazione Che ci sono E via dicendo Per caricarle Invece Normalmente O alla luce Della luna piena Ritirandole però Prima che sorga il sole Perché se prendono il sole Perdono tutta la carica Che avevano avuto O dentro a una genesa Una pentasfera Se ce l'avete O a contatto Con un ametista Le ha chiuse bene Nel caso Che cosa ha chiuso bene? Oddio Mi sono persa Chi ha chiuso cosa? Cosa ha chiuso chi? Svevo una domanda Vorrei sapere Se prima di usare Un qualsiasi strumento Per la medianità Bisogna chiedere protezione Dipende Normalmente La protezione Non è che la chiedi La protezione O te la crei O utilizzi Un oggetto Di protezione Non è che la devi chiedere A qualcuno Non ce n'è entità Che ti proteggono Quindi Chiedere la protezione Non ha nessun senso Di solito Chi è capace Bene Si scherma E basta quello Alcuni si fanno Il cerchio protettivo Intorno Non di sale Ma disegnato Il cerchio protettivo Intorno Alcuni altri Utilizzano amuleti Protettivi Pietre di protezione Come può essere La tormalina O l'ossidiana È più indicato Nella medianità Però in generale Si utilizzano mezzi Non è che chiedi A qualcuno Di essere protetto Grassi e prezzi Comunque quella cosa Che stavi mangiando È inquietante Lo stesso Ti voglio bene Ma è inquietante Prego Luana Io vorrei Qualche approfondimento Magari in video serale Sulla massoneria Ma guarda La massoneria Cioè Massoneria Ce ne sono tantissimi Tantissimi gruppi massonici Non è che massoneria È Un sinonimo Di qualcosa Di oscuro Di qualcosa Di pericoloso Di brutto Che Molte volte Viene utilizzato Quasi come un termine Che deve far paura No? Quello era un massone Beh cosa vuol dire? Ci sono un sacco Di sette massoniche Che sono Persone come si deve Non fanno nulla di male A prescindere Che hanno le loro regole interne Quindi Anche lì Bisognerebbe vedere Cosa Di cosa parlare Della massoneria Perché ci sono anche Invece le sette Che hanno fatto cose Non proprio bellissime Ovvio E sono le più famose In generale A partire dagli illuminati I sogni fatti Nel riposino pomeridiano Anche con defunti Hanno la stessa valenza Di quelli notturni Assolutamente sì Identica Hanno una marcia in più Te li ricordi meglio Quelli che durano Quelli In una fascia temporale Di sonno Che dura di meno Cioè che è più breve Come il pisolino Li ricordi meglio Perché ti svegli Che è appena accaduto Mentre invece Quelli notturni Dipende da dove ti entra Il cervello In fase REM A volte non ricordi niente A seconda dei tempi Quindi diciamo che hanno La stessa identica valenza Con la differenza Che te li ricordi più bene Io sogno sempre Gli tsunami In sogno lucido E quindi In sogno lucido Sogni gli tsunami Però in sogno lucido Allora sei tu che crei Quel sogno lucido Perché se non ci sono Altre entità Lo stai creando tu Quindi la mia domanda Nasce spontanea Perché creare un sogno Dove ci sono degli tsunami Io non capisco Certe volte Certe cose Se è vera questa cosa Dell'incantesimo temporale Voluto Come possiamo limitare I suoi effetti Per romperlo Bisognerebbe rifare Il calendario Suppongo Beh diciamo che Ognuno di noi Nel suo libero arbitrio È in grado Di uscire Da certi schemi Già solo il fatto Di conoscerli Ti permette Di poterne uscire In parte Poi Lì dipende Ora Quella nostra Era solo un'ipotesi In merito Ovviamente Ma mettiamo caso Che fosse L'uscire Dalla mentalità Del tempo Aiuta notevolmente A non Rimanere Bloccati In quella bolla Io per esempio Vivo senza tempo Nonostante Purtroppo Essendo Nella civiltà umana Devo Avere Qualche orario Cioè Il figlio Deve andare a scuola Io devo andare a fare Le commissioni Devo andare a fare un lavoro Quindi ho quell'orario Tipo domani sera No dopo domani sera Che sono a fare La lezione di informatica Io la lezione La faccio Dalle 6 Alle 7 E ci devo essere Dalle 6 Alle 7 Ma nell'arco Del resto Della giornata Per esempio Io vivo sempre Senza tempo Io non ho L'orario Per mangiare L'orario Per dormire L'orario Per fare una cosa Io non ne ho Io faccio sempre Tutto quando mi va Se ora ho fame Mangio Non capita mai Ma sti due giorni Più del solito Sti due giorni Mi mangerei anche Il gatto Io non lo so Sentirò il freddo Che è tornato Boh Comunque A prescindere Dei miei attacchi Famelici Dormo quando ho sonno Faccio tutto Senza Orologi Ai polsi E in effetti Mi incavolo Anche quando a casa mia Qualche mio Convivente Tipo marito e figlio Mi dicono A che ora Finisci Non lo so Quando mi vedi Ho finito Perché non sopporto Nemmeno che mi chiedi A che ora Io gli ho sempre sentiti Più potenti Quelli pomeridiani Cioè me li ricordo E' quello che dicevo prima Fra Perché quelli pomeridiani Te li ricordi Elementi Arriviamo indifferita Era riguardo Al possibile Incantesimo Dei 12 mesi Quelle per ora Sono solo Tutte supposizioni Ovviamente Noi Stavamo facendo Delle ipotesi In merito Io uso Fetici Per protezione Vanno bene Anche quelli Assolutamente Io ho un Alrun Fatto di mandragora E ho La mia Gris Gris Io tengo Sempre una Gris Gris Delle mie Quindi Anche i fetici Vanno benissimo Caras Volevo chiederti Cosa sai In merito Alle chizzune Volpi a nove code La chizzune Viene erroneamente Considerata Demone Ma in realtà E' una creatura Vive Vegeta Una creatura Immortale O semi Immortale Perché Il termine Immortale Nelle creature Può Deviare Immortale Significa Semplicemente Che non muoiono Di vecchiaia O di malattia Non significa Che non Possono Morire Se vengono Uccise Da qualcuno Possono Morire Ad esempio Una delle chizzune Più famose Nel mondo Era quella Che era Rimasta Rinchiusa Per secoli Dentro a Seshoseku Che però Adesso Un anno fa Un anno e mezzo fa Si è spaccata E appunto Le leggende In Giappone Narrano che Quella chizzune Si è scappata fuori Poi sulle chizzune Ci hanno favoleggiato Cartoni animati Film E chi più ne ha Più ne metta Però Diciamo che È Una creatura Volpide Quindi Una creatura Con sembianze Umane E con caratteristiche Di volpe Appunto A sette O a nove code Di colore Normalmente O arancione Quando è giovane O tendente Al bianco E all'argento Quando invecchia E anche le code Più diventa Capace E matura E più poi Vanno ad aumentare Fino al massimo Di nove Nelle chizzune Più anziane Io ogni tanto Faccio Bau Come d'accordo Così sai Che sono sveglia Io ti devo Acchiappare A te Tu continui A scapparmi Dalle live Ma io ti Riacchiappo Prima o poi Madre Per me Sia il pomeriggio Che la mattina Hanno la stessa valenza E i sogni Con i refunti Ma è una cosa Mia soggettiva Ma la mattina Anche Solo che la mattina Dovresti Svegliarti Di tuo Cioè Svegliarti Perché il tuo fisico Ha smesso di dormire E purtroppo Nella nostra società Non succede mai Purtroppo Dobbiamo avere Le sveglie Per un motivo O per l'altro Perché se noi Ci potessimo Svegliare la mattina Per i cavoli nostri Quando il nostro cervello Decide di alzarsi Faremmo molti più sogni Soprattutto In quella fascia Temporale Il lato esoterico Delle varie loge Massoniche Cosa fanno? Eh Di tutto Ci sono loge Che si sono date All'occultismo Logge Che invece Praticano maggiormente L'esoterismo Logge Che si affidano Anche Ad alcune Filosofie orientali Eh Diciamo che È un po' Come il mondo Fuori dalla loggia Ma anche fuori Dalla religiosità Inculcata Quindi Troverai Eh La loggia Che basa I suoi esercizi I suoi dettami Esclusivamente Sull'occulto Sulla necromanzia Eh Logge Che invece Praticheranno di più La ritualistica E quindi L'esoterismo E loge Logge Che praticheranno Invece Una maggior Comunicazione Con il loro Sé interiore Quindi con la possibilità Di sviluppare Le proprie capacità ESP Le proprie capacità Interiori Anche attraverso Meditazioni E altri tipi di tecniche Più o meno Legali Mettiamolo a così Buonasera Giovanna A proposito Si sa Qualcosa Del demone Che si è liberato Della Seishoseki Che si era rotta Qualche mese fa In Giovedere Di quella Stavo parlando Di Seishoseki Eh È uscito Non era un demone Era una chizzune Però È uscita Sì Dove sia Non si sa Io sono convinta Che sia comunque Incazzata bestia Quindi Sicuramente Si capirà Dov'è E penso anche Che se debba Perseguitare qualcuno Andrà a perseguitare I discendenti Di chi ce l'aveva Rinchiusa In Seishoseki Comunque Loro ce l'hanno L'abitudine Di perseguitare I pronipoti Di Degli antenati Che ce l'avevano con loro Quindi Secondo me Se Se c'è Ancora Qualche discendente È facile Che Ci sia Qualche sentore Di dove sia Andata a stare Di dove sia In questo momento Cintia Buonasera Fatina Buonasera Angela Effettivamente Hai ragione Ora che ci penso È la mente Che crea Direi Che anche Sì Gli illuminati Dicono Che stanno Complottando Contro i terrestri Cosa mi dici Ieri intanto Al TG Ricordavano Dei semi E altro Che hanno attivato Nella cosiddetta Arca C'è qualcosa di vero Come Cosa aspettarsi È imminente Ma Gli illuminati Sono umani Non c'entrano Un tubo Con gli alieni Non confondiamo I complottisti E i complottismi Perché Il 90% Del 90 Facciamo anche Che sia Che non sia Così Perché non può Essere davvero Così piatta E quindi Devono Trovarci La soluzione Internazionale Complottista E quant'altro I complottismi Non si possono Leggere Gli alieni Che ci vogliono Schiavizzare Il 5G Che ci cambia Il DNA Le strisce Chimiche Le strisce Come si chiamano Che fanno piovere Quando vogliono loro Non fanno piovere Ci intossicano Ci vogliono uccidere Tutti Praticamente I complottismi È sempre meglio Lasciarli perdere Perché sono Tutti delle merite Boiate A posto Allora Vivo senza tempo Anche io Molto spesso Non so neanche In che mese Ci troviamo Lascia stare Che io non so Manco che giorno Sono a volte Sono tremenda Perché il tempo Esiste Brava Hai capito tutto Angie Sarà la luna piena Sveva che fa venire Voglia di mangiare Ma che ne so Guarda Può essere Io so che oggi Tra ieri e oggi Io gli sono detto Smanciucchio Sì è vero Mangio dolcetti Però non sono Così eccessiva Invece Tra ieri e oggi Mi sarei mangiata Un bisonta La obelix Proprio Ma Eppure Bo Io sbaglio i giorni Mi sento rinco Sveva Hai visto La gris gris Che ho fatto Io tempo fa Non me la ricordo Manu Perdonami Magari l'ho vista Sicuramente Però non è che Mi ricordo Tutto quello Che vedo In giro Vedo troppa Roba Kitsune Ne parlano molto Nel film Nella serie Di Teen Wolf Ed è descritta Come Li hai Spiegata Ah come l'hai spiegata Mmm Della Kitsune Io non ho guardato Teen Wolf Ma Ti premetto che Se è un'americanata Già io non le guardo Quasi mai le robe americane E non ho Pay TV Di nessun tipo Non ho Netflix Non ho Prime Non ho Sky Non ho nulla Che si paghi Guardo tutto Soltanto Gratuitamente Sul web Youtube Rakutenviki Gratis La versione gratuita Quindi Non ti saprei dire In particolare Di questa serie Ma La Kitsune È una Creatura Poi negli ultimi 300 anni Dichiarata Demone Ma non è un demone Della cultura Asiatica Da migliaia di anni Come anche Il Tanuki Come il Kappa E come tantissimi altri Corri corri Che mi prendi Tu sei alta Magra E ginnica Io sono piccola Tonda E paio Gigi la trottola Senza il basket Non ti prenderò Mai Neanche se mi impegno Pure un video Hai fatto sulle Kitsune Per forza Nella playlist Creature Non potevo Non parlare Delle Kitsune Anche perché In vite passate Siamo state Anche collegate Alle Kitsune In qualche modo Una domanda Fino a dove si spinge Sta apparendo Il nano In un angolo Fino a dove si spinge La magia Cioè Ha dei limiti Tipo volare Trasformare qualcuno Esempi stupidi Tecnicamente 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 Non ha limiti Il problema è che Il limite ce l'ha Il mago La magia non ha limiti Il mago Si E dai Voglio Ne voglio Anche io Una live Con te E Sveva Diglielo Diglielo Alla madre Sono tre settimane Che gli dico Di sbucare Fa finta di niente In compenso Mi sbucano i nani Fa finta di niente E scappa Chi cosa Bluta madre Chi cosa Quando dove Adida Candida Che gli dico sempre Di sbucare con me In live Non vuole sbucare Bene Siccome I massoni Sono fatti Di gente potente A livello mondiale Mi viene da pensare Chissà che stanno Combinando Con rituali O chissà cosa Guarda Combinano poco Nel senso che Quando una persona Arriva A poter comandare Le sue stesse sorti Attraverso dei rituali E della magia Non ha bisogno Di piegare gli altri E' un po' come Le televendite Di una volta Quando ti vendevano Il sistema sicuro Per vincere All'otto Alla modica Cifra di 100.000 lire 50.000 lire 40.000 lire Faccio Giorgio Mastrota Era un assurdo Perché se tu hai Un sistema Che funziona Per vincere All'otto Non hai bisogno Delle mie 50.000 lire Giochi Giochi all'otto E te li vinci E questo è il ragionamento Di base Ciao Chiara Buonasera Marco Buonasera Le loge massoniche Sì sì Ho capito che parlavi Delle loge massoniche Ma anche loro Vanno per tentativi Ma non hanno Chissà che enormi Conoscenze Se avessero Queste enormi Conoscenze Non gli servirebbe Andare per tentativi E ammesso E non concesso Che ce l'abbiano Certe conoscenze Non hanno Nessun motivo Di andare Ad intaccare Il povero Pezzente E' tutto lì Il discorso Grazie Margherita Gianna Buonasera Dania Buonasera Ma anche a me Oggi pomeriggio Cadeva Saliva La linea Saltellava Quindi penso Che sia un po' Un problema Generale In Italia Con le linee Oggi Grazie mille Cercherò qualcosa In merito Più nel dettaglio Mi sapresti Consigliare Delle letture Su questo argomento Aspetta Perché io Mi sono dimenticata Qual era Il tuo argomento Amor Ti ho persa Ah ecco Delle chizzune Ok Perdonami Ma abbiamo parlato Di otto argomenti Insieme E non mi ricordavo Più qual era il tuo Ma ho fatto Un video Sulle chizzune Comunque In generale Sulle chizzune Trovi Tantissimo Perché sono Talmente famose Che I dettagli Delle loro leggende Del loro modo di essere Via dicendo Si trova Un po' Dovunque Loro vivono Come Il mondo fatato Quindi Sono Nella dimensione Terza Materiale Ma I loro villaggi Sono In una dimensione Ulteriore Interiore Alle nostre dimensioni Quindi Non sono visibili Tanto è vero Che in alcune leggende Si narra Che se tu entri Dentro a un villaggio Chizzune Se non sono loro A portarti fuori Tu non riesci più A uscirne Ed è un po' Lo stesso Anche per lei Per i luoghi Abitati dal piccolo popolo Per i luoghi Abitati dai tanuchi E da tanti altri Tipi di creature Per me I massoni peggiori Sono i nostri politici Quelle sono le persone peggiori A prescindere dalla massoneria o meno Mi si è bloccata la diretta Ma deve essere una questione di tempo A me non si è bloccata adesso nulla Però Appunto dicevo In giro per l'Italia Ci sono un sacco di Problematiche Con i ripetitori Eccetera Oggi È arrivata la mia ora Ti saluto a seguire la replica Buonanotte a tutti Buonanotte Pina Scie Quelle E io vedi Sono talmente Repulsiva Verso I complotti E i complottisti Che non mi ricordo Manco i termini che usano Tanto mi sembrano Dele cagate Pazzesche Citazione Stasera mi sembra più indifferita Del solito Ripeto Sarà una questione di linea Perché A me sta Gironzolando bene Però in effetti Si Perché se guardo il cellulare Dove sto parlando E guardo il pc È un bel po' Indifferita Sveva sto guardando Una serie tv Parla di Shadowhunter Esistono veramente O è solo frutto Della fantasia I shadowhunter Intendi Gli omini di ombra I shadow people Comunque si Gli omini di ombra Esistono davvero Ora io non conosco Questa serie Quindi non so Come Li presentino Gli omini di ombra Sono delle creature Bidimensionali Quindi della seconda Dimensione Che appaiono A volte Anche nella nostra Terza Sono appunto Come delle ombre Normalmente Molto spesso Hanno una forma Che ricorda Un po' Un cappello E di solito Ci si notano Tra virgolette Gli occhi A volte hanno Due pallini Bianchi In centro Faccia A volte hanno Due pallini Rossi Alcune volte Non hanno Proprio gli occhi Perché poi sono Di due o tre razze Differenti Comunque sono Del tutto innocui Lui ne conosce Un bel po' Da anni C'erano tipo Cinque nell'armadio C'erano cinque Nell'armadio Vabbè Ma sono anni Che stanno con te Ormai Mi battete il cinque C'erano pure le candele Quelli Si può fare le candele Si mettono Attorno al mio letto Con le candele Fanno degli rituali Loro Non sono io A fare gli rituali Sono loro Quindi gli illuminati Chi sono E qual è il loro compito Compiti Ne hanno ben pochi Forse hanno degli scopi Più che dei compiti Illuminati E anche quella lì Una loggia massonica Chi siano Non te lo so dire Nel senso Che non so Chi partecipi Alla loggia Degli illuminati Che ci sia La loggia Degli illuminati È assodato Ma ce ne sono tantissime E che gli illuminati Siano tanto nominati Un po' Perché avevano anche La loro simbologia Sullo stesso dollaro Perché C'è stato un periodo storico In cui hanno comandato Negli Stati Uniti D'America E quindi Era rimasto Il loro simbolo Della piramide Con l'occhio Peraltro Poi è ripresa Anche da Cronly Ripresa anche Da Da moltissimi altri Quindi Molte volte L'uomo Capisce qualcosa Conosce qualcosa E poi fa delle Accozzaglie At cazzum Delle varie cose Volevo un tuo parere Ciao Tami Andrò a vedere il video Sì sì Cioè È nella playlist Queste creature Proprio intitolato Le Chizzune Maria Teresa Ti dice Ciao Nano Malmela dice Brandon Francesca Tamaro Ti dice Ciao Ex Nano Buonasera Desiree Ho una domanda Da farti Hai mai vissuto In una casa Dove c'erano O allevavi Galline O altri animali Vissuto Io no Mai Io non ho mai Vissuto in campagna Io ho vissuto Sempre in città Ora sono in campagna Ma non ho animali A parte i gatti E qualche ragnetto Qualche pippo Che ogni tanto Allevo anche i pippo Io Però no Mai stata Mai abitato Stata Sì Avevo amici Avevo persone Che ce l'avevano Però Io mai Lui aveva secondate Cosa significa Sognare Un'entità malvagia Che ti tiene Stretto per il collo Ti guarda fisso Negli occhi Arrabbiatissima Ti chiede Come osi Ribellarti E ti ricorda Che appartieni a lei Mi è successo Circa 5 anni fa Credevo fosse Sua maestà E il diablo Ricordo che nel sogno Eravamo in volo Cercavo di Divincolarmi Ma non potevo muovermi Ed ero bloccato Dalla paura A un certo punto Un fascio di luce Accecante E bianchissima L'ha colpito Spazzandolo letteralmente Via Mi sono svegliato Di soprassalto Sudavo freddo E avevo la bruttissima Sensazione Di non aver sognato Ma di aver proprio Vissuto Quell'esperienza Ma normalmente Eh Sono casi Rarissimi Eh Però potresti Essere entrato In lucido Magari uscendo In astrale In volontario E per mera sfiga Aver incontrato Un'entità Del basso astrale Le entità Del basso astrale Sono così Sono abbastanza Violente E abbastanza Ignoranti Anche quando Parlano Poi il fascio Di luce Che l'ha spazzata Via Potrebbe essere Benissimo Qualcuna Delle tue Guide Perché Normalmente Le guide Qua Nelle nostre Situazioni Immateriali Non ci cacano Nel senso Che se sei senza Lavoro Ti è morto Il nonno La nonna La zia Il gatto Il cugino Il vicino Di casa Sei disperato Vuoi tentare Il suicidio Alle guide Non gliene può fregare De meno Sono affari tuoi Di vita Materiale E normale Ma se Inceppi In qualche Entità Che può essere Un rischio Per la tua Esistenza Per la tua Anima Allora Su quel piano Quindi sul piano Astrale Sul piano Lucido Possono intervenire In quel caso Lì di solito Intervengono Quindi potrebbe essere Capito? Sono dei poveracci Pensano di essere Stoca Invece È tutto un mito Mettila così È più un mito Che altro Il discorso Paranormale Il discorso Delle loggie È un altro paio Di maniche È tutta un'altra cosa Ma il discorso Della paranormalità All'interno Delle loggie È più leggenda Che realtà Jessica Buonasera Anubia Ciao Ciao Sveva Io ci sono Per poco Perché mi sveglia Le 4.45 Ancora grazie Che ci sei Ci mancherebbe Ma avevo troppa voglia Di ringraziarti Perché grazie a te Al tuo video Che spiega Come sia importante Esercitare Il lato sinistro Aspetta che ti ho perso Sto aiutando tantissimo Il mio paziente Amputato di gamba A sinistra Lui si sta esercitando A usare Nella vita quotidiana La sua mano sinistra E questo Gli sta migliorando La sua percezione Nella protesi Assolutamente È un aiuto Anche fisico Infatti Sta quasi camminando Con la protesi Come se fosse La sua gamba Che è poi Quello che deve Raggiungere Lui mi dice Che la sente Sempre di più Come se fosse La sua gamba Ne sono davvero Davvero contenta Perché I piccoli esercizi Che io spiego E dico Molte volte Sono veramente Utilissimi Però Avere il riscontro Quando poi Le persone li fanno E mi dicono Che effettivamente Sono utili Anche per la vita Di tutti i giorni Come questo signore È una gran Bella soddisfazione Perché comunque Stai realmente Aiutando qualcuno Anche soltanto Spiegandogli Non sei da sola Io in questi giorni Ho mangiato il triplo Sarà davvero La luna Ma può essere Io normalmente Non sono molto Influenzata Dalla luna Non ho quel tipo Di legame Seppur io Adori la luna La ami Mamma luna Ma non sono Influenzata Dalle sue Dai suoi magnetismi Però Non so perché In sti giorni Mi mangerai pure Il nano Così Ma perché è secco Non ci mangio niente Però Sei secco Che ci mangio con te Esiste una formula per vincere Prima di entrare a comprare un grattevinci Bisogna pronunciare Da amici Asinum Calcitrare Io se ti vedo Comprare un grattevinci Te dico Tisina Sinum Altra che Ego plus Et plus Init Per rifarsi Di tutti i soldi Spesi Dovrei Pronunciare La mantra Anche mentre dormo Ciao Amara Buonasera Morto Non parla Degli omini di ombra Vedi Io non le vedo Le serie Cazzarola Non ce l'ho Le paytmi Guarda il film E' bellissimo La serie successiva E' la conclusione Del film Povero Brandon Non se può Non se ne può Più di sti ominidi Un buon libro Sugli illuminati Non saprei Se qualcuno Conosce dei libri Sugli illuminati Può consigliarli A Maria Teresa Io non Non mi interesso Di solito Della massoneria Quindi non conosco Nemmeno libri Che ne parlino No Gli shadow hunters Sono per metà Angeli Difendono gli umani E i nascosti Cioè Vampiri Di lupi mannari Allora Ecco Vedi Che già non sapevo Un belino Io te l'ho detto Non le guardo Le serie tv Poi non ho i pay tv Quindi io non so mai Cosa va di moda Io sono rimasta Nel meraviglioso mondo Dei cacchi miei Non conosco niente Che vada di moda O che ci sia Eccetera Allora Sono per metà Angeli Personcine Che sono per metà Di entità Della quinta dimensione Sembrerebbe Parrebbe Ce ne sia Qualcuno In giro Per questo pianeta Ma Dubito che Difendano gli umani E Anche se qualcuno Magari si può Anche impicciare E I nascosti Cioè vampiri Lugui mannari Ecco Sui nascosti Invece concordo Perché loro Ho le mie certezze Che ci sono Però questi Shadowhunters Quindi questa sorta È un discorso complesso Cioè Io non conosco la serie Quindi non so Cosa siano di preciso Ma Se sono entità Nate da un umano Per intercessione Di un'entità Della quinta Dimensione Quindi quelli Che vengono chiamati Angeli Demoni Guardiani Eccetera Sì Bianco E rosso Sempre in braccio C'erano tutti Perfino tuo figlio Ma era più piccolo Ero arrabbiata Perché non ero riuscita A comprare nulla Da mangiare Insomma Delle mani Ma se io non ci credo Fare sul mio orologio Non ci credo Non ci credo Io le prove Non le voglio Ipotetiche Io le voglio concrete Sennò non ci credere E di concreto Nessuno mi ha mai dato Nessuno mi ha mai dato niente Nessuno mi ha mai dato niente In quell'ambito Quindi passa Fai da da umpa Ciao ciao Non l'umpa l'umpa Eccolo Io stavo giocando a scacchi E giocando a scacchi Che vuoi Ti vogliono salutare Ok L'avete salutato Tata Ritorno io Per la vostra gioia Grazie davvero Lo cerco Bravo Lo stesso titolo Grazie mille Sei sempre chiarissimo E spieghi le cose Magnificamente Grazie a te Andrea Farei il dritto E ti ascolterei in diretta Fino domattina Se faccio una diretta Ammina domattina Le corde vocali Vano in ferie Per fare Inaccettabile bottiglia Che non è protettiva Posso farla In luna piena Ho un dubbio Amletico Che non è Essere o non essere Ma è Non so cos'è Inaccettabile bottiglia Perdonami Ma i volatili Che ti erano Arrivati a casa Uno forse Non ce la fece L'altro Ah si Ma quelle lì Erano due cornacchie No Le aveva portate Brandon Che le aveva trovate Morenti In giro Una non ce l'ha fatta È morta La sera stessa E poi il giorno dopo È arrivata L'altra cornacchia Che invece Ce l'ha fatta bene E poi l'ho fatta portare via D'Alempa Ma erano due cornacchie I Shadowhunters Sono guerrieri Che combattono Per tenere L'equilibrio Tra gli uomini E creature O demoni Eh si Avevo capito Che era una cozzaglia Di quel genere Però non Appunto Spiegavo Qual era la parte Che poteva essere Un po' reale E il resto No Mi è successa Una cosa strana Mentre dormivo Ho sentito Una forte risata Era di pomeriggio Quando dormiamo Molte volte Susanna Si aprono Certi canali Anche quando Ci mettiamo In certe posizioni E molto spesso Sdraiati Quindi può essere Che si sia aperto Qualche canale uditivo E hai sentito Qualche entità Che rideva Anche loro Ridono Chissà dove eravamo Finita Allora Il mio sogno Buonanazzo Grazie sempre Saluti al nano Non lo so Desiree Sinceramente Non ne ho Proprio idea Ma quanto è Bello T'hanno detto Stai entrando In modalità Non so che dire No Ho quasi vinto a scacchi Ah ecco Stava vincendo a scacchi Ho tre regine Ti somiglia tanto E lo so E anche di testa E quello è il problema Vento Ecco Hai detto una cosa pazzesca La quale ci avevo pensato anni fa Arrivando alla conclusione Che forse era impossibile Quella di procreare Da un'entità elevata Ma quindi Come è possibile questa cosa Ora non ci dormo più Beh Non c'entra niente Il discorso del rapporto Quello non c'entra niente Però diciamo che Le entità elevate Hanno anche il potere Di Inserire Un potere Dentro A un animaletto A una bestia Come l'essere umano Non ci troverai nulla Di difficile Per loro Leva saluto a te Le tue follower Domani mi devo svegliare Prestissimo Ciao Adam Buonanotte Grazie per esserci stato Sì sì Hai intuito bene Buonanotte Anubia Buonanotte Sveva Io vado a nanna Che tanto mi guardo Tutto con calma Tanto salvo Sempre tutto Forse quello Che ha sognato Desiree Roberto Può essere Una tua vita passata Sveva In campagna Quello può essere Sì Quello potrebbe Benissimo Essere Io bau E sto ancora qui Tasera mi abbaglia La madre Io invece Questi giorni Grugnisco Più che abbagliare Sì è vero Un pomeriggio Sento la voce Del mio fidanzato E infatti La posizione sdraiata Spesso può aprire I canali uditivi Bau Anche a te O futura Tanto le vite Non sono in sequenza Temporale Esatto Erika Non sono in sequenza Temporale Però Futura Futura per me Devo ancora viverla Quindi a meno Che non sia Veggenza La sua Non potrebbe Vederla Futura Nel senso Che mi sono già Reincarnata Nel futuro In base a come lo vediamo noi Sì potrebbe essere Però per la mia anima Sarebbe comunque passata Cioè già vissuta Maledetto di nome Non volevo scrivere Un'accettabile bottiglia Ma una bottiglia Che non sia di protezione Protezione Luna nuova Quindi cambiando Tipologia di scopo Posso farla In luna piena Dipende Dallo scopo Se lo scopo È di attrarre Dalla luna piena Però è molto potente In luna piena A tutta la fase Di luna crescente Se invece lo scopo È di allontanare Scacciare Dalla luna nuova Che però è sempre Molto molto potente Per tutta la fase Di calante Quello dipende Dal tipo di scopo Sì sì Già reincarnata Nel futuro Intendevo Sì ma avevo capito Però specificavo Più che altro Per gli altri Ecco capito Allora immettono Solo loro energie In un corpo umano Alla fine ha senso Eh sì Non funziona Come nelle sorelle Alliwell Quando stava Co Co Com'è che si chiamava Co Come si chiamava Il demone Che era fidanzato Con Phoebe Col Oh Ma lo sono ricordato Che poi era Baldazor Io non mi ricordo Mai niente Di solito Come nomi E lo so Ma di questi tempi Non mi stupirei La campagna In futuro È difficile Vederlo Almeno Considerando L'inquinamento Che c'è Eh vabbè C'è inquinamento Ma in campagna Ci si sta ancora Eh Angela Sì sì Dopo Mi ho sorricordato Che era Cole Cioè Cole Nella versione umana Nella versione L'emonia Che era Baldazor Oh Mi sono ricordata Una volta ogni tanto Vado anche io Buonanotte a tutti Sveva Ma fallo un video Sui massoni Quando non sai Di che parlare Mo c'è la vissa Con sti massoni Sì sì Baldazor Me lo sono ricordato No Baldazor Beltazor Era Me lo ero ricordato Ah ah Tanto per cambiare Io intreccio Io quando ce l'ho lui Non riesco a stare Senza a pugnarli Per questo che Li annodo Perché sennò poi C'è un demone Che si chiama così Pasoso Non è Pasoso È Pazzuzu Che comunque Lo chiamano demone Poverino E l'hanno fatto Anche passare Per un demone Cattivo Ma in realtà Pazzuzu Non è altro Che un dio Dei venti E protettore Dei bambini Sumero Ma Poi Con il film L'esorcista Lo hanno fatto Diventare Un malvagio Ma Pazzuzu Non è per niente Malvagio Mi ispirano I massoni Pazzuzu Pazzuzu Non è un demone È un dio È il dio Dei venti Lo chiamano demone Soltanto nel film Dell'esorcista Perché l'ha fatto Una capra Quel film E ci ha messo Di mezzo Quel poverino E tra l'altro È un'entità Veramente buona E protettrice Pazzuzu Povero Sveva Volevo chiederti Per quanto riguarda La visualizzazione Della schermatura Protettiva A me Aiuto Parli il filo Ah Allora Sì Mo' state bravi A me Mi si presenta Di colore verde Ora a me Il verde Non mi fa impazzire Come colore Però si presenta verde Con dei punti neri Verso l'esterno Che ne pensi Di questo colore E di questa Visualizzazione Ma La schermatura Non ha Un significato Nel suo colore Alcuni Si trovano meglio A visualizzarla Con un colore Piuttosto che Con un altro Può essere Che il colore verde Sia legato A qualcosa Di tuo Di personale Qualcosa A livello di aura Qualcosa A livello di energia Magari legata A un qualcosa Che riguarda L'ambiente psichico Oppure L'ambiente Della salute Perché normalmente Di solito Il verde È legato Alla salute O alla fascia Psichica Quindi Però è semplicemente Il tuo modo Di Di schermarti Ogni anima Ha un suo modo Hai fatto Hai fatto mai Una diretta Con una fata Una diretta Con una fata In che senso Io non parlo La lingua Delle fate Se intendi Le fate Quelle che adesso Sono fate Cioè Il piccolo popolo Perché loro hanno Un linguaggio Tutto particolare Non parlano come noi E io non lo comprendo Il loro linguaggio Se intendi persone Che sono state Anche fate Nelle loro vite Precedenti Ha voglia Appunto Angela Converso Che era qua Prima a chiacchierare Giovanna Giocento Dea Estreia Ce n'è Ce n'è E anche di consorelle Che sono state Nel piccolo popolo Come fate Dei venti Io mi ricordo Solo Eolo Ma era un'altra storia Eolo era greco Non era sumero Dio dei venti Quando soffierà Bora Lo invocherò Bravo Diglielo Di cacciare Bora Lui ma non mi ricordo Non mi entra in testa Ma se la lettera In enocchiano Era per l'angelo Per il demone Era solo candela viola E basta Senza lettera Allora In realtà Angela Sono due metodi Che vanno bene Per entrambi Quindi L'enocchiano Va bene Sia per i demoni Che per gli angeli E la candela viola E il parlato a voce Va bene Sia per i demoni Che per gli angeli Io però Ho scisso Le due spiegazioni Perché Non mi ascolta Soltanto la persona Che quella cosa L'ha capita Ma mi ascoltano Un sacco di persone Che non l'hanno capita Che angeli I demoni I guardiani Sono la stessa Identica razza Sono ancora Abbastanza fissati Con le stronzate Religiose Allora Per fargli capire Che possono farlo In qualche modo Senza Dover fare Tutta la spiegazione Da capo Ho dato Le due tecniche Dividendole Una parte Per gli angeli Di una parte Per i demoni Ma in realtà Sono intercambiabili Senza problemi Aspetta No no Intendo una di voi Della congrega Angela e l'altra Angela conversa Adesso non è più In congrega Ma era con noi In congrega Lei lo è Giovanna Giocente In congrega Con noi Ed è a Estreia Anche E anche loro Erano delle fate Sì sì Però Non ho fatto live Con loro Per vari motivi Però sì Sono in congrega Con me Meglio non evocare Nessuna Evocare mai A meno che Tu non hai Sulle spalle Tanto Tanto Studio Evocare mai Che linguaggio Un'evoluzione Sovranaturale Sì E che comunque Voglio dire Andrea Stava con Call E alla fine Si mette Con Cupid Parliamone Parliamone Beh che peggiore Del marito Di Piper Non c'è Non c'è può essere Nessuno Il pennuto Che diventa Anziano Che non capisce Un belino E fa solo danni E' possibile In meditazione Sentire anche Gli odori Del luogo In cui ti trovi E come Assolutamente Sì E la farò Se riesco Ad acchiapparle Perché qua Nessuna Delle mie Consorelle Ha mai tempo Di venire A fare Live Però sì Se la acchiappo Una di loro Sì Quindi potrei scrivere Nenotiano Oppure per sapere Il demone guida Esatto Perché l'ultima volta Che l'ho fatto Per il demone guida Non avevo Una bella faccina Beh ma Sei tu Che te li aspetti Tutti belli Fighi Affascinanti Ma non funziona Così Ci sono anche Quelli che non hanno Una bella faccina Che non significa Che siano Pericolosi O cattivi Semplicemente Per i nostri gusti C'è quello Che troviamo Più bello Quello che troviamo Un pochettino Meno bello A volte Anche quelli Più paurosi Non è che perché A noi ci fanno paura Devono essere cattivi I bracci Le fate volano via Ma mica solo le fate A me me vola via Tutta la congrega Tutte le volte Che dico a qualcuna Fate una live Con me Scappano C'hanno sempre Da fare Sono blute Ce lo dico sempre Che sono blute Ciao Serena Buonasera Le Hollywood Avevano anche La sorella Sposata con Leo E' quello Che stavo dicendo E' quello Il marito di Piper Leo Che era un pirla Sarà stato anche un angelo Ma era un angelo pirla E poi è diventato Una sorta di mezzo Anziano Che non si capiva Un tumo Ma era pirla Lo stesso Inguardabile Leo Proprio Uno dei peggiori Della serie Ma Uh Già li devi accettare Per quello che sono Assolutamente Si Io oggi Ho fatto una meditazione Con la musica Dark Ambient Ho visto un luogo Pazzesco Ricoperto di sabbia nera Brillantata Sembrava viva Quella sabbia Si muoveva La sensazione Che ha lasciato Era una quiete profonda E' ma facile Che fosse un qualche luogo Forse una delle Valli di Storace Mi hai fatto venire in mente Sta cosa E' C'è una parte Dell'oltre Che io non ho mai visto Ma che viene chiamata La valle di Storace Ed è Così Ha una sorta Di pavimentazione Che sembra Sabbia Che luccica Che sbirluccica Come se fosse Sabbia d'oro Ma nera Sabbia d'ossidiana E viene chiamata E viene chiamata Però non so Cosa serva A quel luogo E viene chiamata Proprio La valle di Storace Lo so Non mi fermo All'aspetto esteriore Però di solito Ci sono sempre Presentati Come figoni Marina Buonasera Io voglio Dì da Rita Cristina E va lei ad acchiappare Tutte per i capelli Che mi scappano Che manco le cozze Dentro al lavandino Lei faceva Costing Spariva Tanto era utile Come i coriandoli In bagno Anche se spariva Forse forse Faceva meglio Una volta Mi sono trovata Davanti Una faccia Pseudumana Verde Brufolosissima Con gli occhi Verdi Chiaro Cosa poteva essere? È difficile Dirlo Mari Gli occhi verdi Nell'oltre Di solito Ce l'hanno Le entità Legate Alle Incarnazioni Della morte Al lavoro Che si svolge Intorno Alle morti Della dimensione Materiale Però ci sono anche Alcune razze In giro Per l'universo Che hanno Quei colori Quindi Soltanto Dalla descrizione È difficile Dire Poteva anche Essere un defunto Che aveva la forma Di un altro pianeta Lui ma io sono di parte A me piacevano Prue E il poliziotto Andy Anche a me Che però Veniscono Malentrammi Infatti Io ero una fan Naccanita Di prunata Continua Mi vedete? Ho dovuto mettere L'hotstop L'hot spot Dall'altro telefono Perché mi stava cadendo La wifi Non so perché Però si Mi rivedo Quindi vuol dire Che ha ripreso Ok Allora Leva qualche anno fa Ho fatto un sogno Che mi è rimasto Molto impresso Era un sogno lucido Perché sapevo Di essere in un sogno Mi sono ritrovata In una stanza Nell'universo Ed ero attaccata Da delle ombre nere Che volevano Portarmi via Con la forza Erano Entrate Da una porta A un tratto Però è apparso Un uomo Tipo un mago Con una lunga barba E i capelli lunghi Bianchi Tipo merlino Con un bastone Magico Che ha indirizzato Verso queste ombre Facendo uscire Un fascio di luce Bellissimo Dicendo a loro Lei non l'avrete mai E queste ombre Sono sparite Mi è rimasto Molto impresso Lo ricordo Come se fosse ora Io gli ho chiesto Chi fosse Ma lui mi ha solo Sorriso Ma potreste Di essere anche tu In quel caso lì Tamara Uscita in astrale E quelle Che tu vedevi come ombre Essere Entità del basso astrale Purtroppo Se abbiamo Delle vibrazioni Molto alte Quando siamo in astrale E non ci schermiamo Le entità Del basso astrale Possono avvertire La nostra presenza E provare a venire Verso di noi Quindi potrebbe essere Magari Quell'anziano Era una Qualche tua guida Che tu non conosci O comunque Un'entità elevata Che ti ha liberato Da quelle Da quelle infestanti Non tutti i call Vengono fighi Esatto Lei è un angelo pirla È vero Dai Era troppo pirla Nanna Cioè Era indecente Come entità Elevata Poi Io sogno Meglio Incontro il mio papà In astrale Da cinque anni Da quando è defunto Alcuni mi dicono Che non devo Trattenerlo Perché non va bene Ma io non chiamo E trattengo nessuno Arriva da solo Se è contento così Perché devo negargli Di stare con me Sono contenta Anch'io Ma infatti Ma non è vero Che non leghi Nessuno Nessuno di noi Può trattenere Un defunto Se il defunto Viene perché Vuol venire lui Non abbiamo potere Sui defunti Sono tutte leggende Idiote Che inventa la gente No vabbè Fantastico Davvero Sembrava la polvere Di ossidiana Infatti Quello mi hai fatto Venire in mente La valle di Storace Era davvero Un luogo Che metteva pace Sono tornata Che mi sentivo Diversa Molto centrata E con una sensazione Di pace bellissima Sì Credo sia un luogo Di purificazione Per un qualche motivo E appunto So Che almeno In italiano Nella lingua nostra Viene chiamata La valle di Storace È un luogo Proprio È uno dei pochi luoghi Concreti Dell'oltre Però non ti so dire Di preciso La sua funzione Sì sì Ora è tornata Ho visto Ho dovuto cambiare E mettere l'hotspot Perché il wifi Ho la fibra In casa Vacca miseria Anzi no Come dico sempre Vacca merda Ma Ogni tanto casca Ora ti si vede Si vede Adesso ti sento Sì sì Infatti Mi si era bloccato tutto Ma si sono persi I commenti È facile Angie Non ce la posso fare Ieri notte Ieri notte Mi esercitavo La visualizzazione Con il foglio bianco E le lettere E poi Da sveglia Mi sono ritrovata davanti Un muro bianco Di un tunnel E sono entrata In un sogno Sono matta O può accadere No no Può accadere Ti sei talmente Concentrata Che alla fine In qualche modo Sei entrata Nella dimensione onirica Succede come Continua ad avere Problemi di connessione Vedrò poi tutto Grazie mille Ciao a tutte Ciao Mary Buonanotte Ormai è notte Stefi Buonasera Quindi Svevala questa entità Del basso astrale Siamo più sicuri Sul nostro terzo piano Dimensionale Giusto Rispetto all'attuale Il terzo piano Dimensionale È questo La terza dimensione Materiale È questa Qua sì Qua non siamo attaccati Quelle sono entità Del basso astrale Che succhiano le energie Però normalmente Sono talmente Debolicce Che non vanno Ad attaccare Sul nostro piano Che è diverso Dal loro Persone materiali Perché comunque Sono più energetiche Di loro Aveva una veste Chiara lunga Il bastone di legno Ah non lo so Deve risponderti lei Forse mi sbaglio Ma in alto a destra Del mio schermo Sulla trave centrale Hai una donna Che ci guarda Sai che non lo so Al momento Non la vedo Però non so Se nel video È stata ripresa Devo vedere poi Il video Una volta che lo scarico E te lo so dire meglio In real Non la vedo Sì sì Ho capito Che dicevi Rispetto alla strada Rispetto alla strada È qua sicuramente Ciao Flavia Buonasera È da un po' Che mi sento Osservato da quel punto E con il fumo Della sigaretta Che andava Verso la tua sinistra Mi è sembrato Di vederla Proviamo ad accendere Un po' Il palo santo Che fa più fumo Vediamo se magari Non la sottolinea Perché spesso Il fumo lo può fare Poi riguardo il video Voi lo vedete già Io poi riguardo il video E vedo se La trovo È l'unico modo Sulla sinistra Quindi qua La vostra sinistra È anche la mia Quindi Vediamo se Si evidenzia In qualche modo Proviamo Tentare Non nuoce Mandiamo il fumo Un po' Da altre parti E vediamo se Appare qualcosa Poi tanto Lo analizzo Anch'io Tanto questo È a circa Un'ora e mezza Così so Più o meno Il punto Dove era E vediamo se Per caso Mi si evidenzia Qualcosa Ci sarebbe voluto L'altro Incenso Ma adesso Sarebbe troppo Complesso Farlo andare Quando lo voglio spegnere Non si spegne Sveva Volevo farti una domanda Come si fa a sapere Chi o cosa ero Nelle vite precedenti O magari Nell'oltre Nell'oltre Sei un'anima Della quarta dimensione Quindi non è che Siamo Siamo Anime Della quarta dimensione Nelle vite precedenti Bisogna che fai tu Delle Meditazioni Regressive Costanti In modo che Riesci a vedere Degli indizi Delle tue vite passate Poi più trovi degli indizi E più fai ricerche E più Inizi un po' Anche a ricordare E' tutto un Susseguirsi di eventi Ecco Quindi non conviene Molto andare in astrale Non è che non conviene Andare in astrale Ma bisogna Non si può Allora Se tu Non sei mai uscita Da casa tua Non puoi prendere E partire Da sola Senza che nessuno Ti spieghi niente E andare a Palermo O a Napoli In un altro posto Lontano Perché non sai nemmeno Cos'è una stazione Non sai nemmeno Come si prende un treno Non sai niente Non ci arriverai mai E' la stessa discorso Cioè non è che non è Non si può andare in astrale In astrale si può andare benissimo Bisogna essere capaci A schermarsi A tenere le vibrazioni basse A tenere le emozioni spente Non è una cosa così Se fosse così semplice Lo farebbero tutti Se non lo fa quasi nessuno C'è un motivo Ti crei un bello Scudo energetico Esatto Ma al che vada Chiami il tuo totem Loro normalmente Ti seguono sempre In astrale si Però appunto Devono essere capaci A farlo Quindi se Angeli, demoni Eccetera Sono di quinta Ed elevati Possono Spostarsi loro Per venire da noi Giusto? Sì Non gliene frega niente Di farlo Però sì Possono volendo Buonanotte Dania Prego Tiziano Buonanotte Chiara Questa cosa della regressiva Mi ha sempre affascinato tanto Al tempo stesso Mi fa anche un po' paura L'idea di poter perdere il controllo Ma non ce n'è controlli da perdere Sono solo ricordi Le regressive sono solo ricordi animici Quindi nel momento in cui tu vuoi interrompere quel ricordo Ritorni nel qui e ora Senza problemi Non c'è nessun rischio con la regressiva Ci sono andata spontaneamente Varie volte Ma comunque pochissime Massimo tre volte Lo scudo energetico Va tenuto solo come visualizzazione O come Devi partire visualizzandolo Poi una volta che l'hai visualizzato Essendo che sei in dimensione astrale Rimane Non c'è bisogno che continui Visualizzi che ce l'hai addosso E che rimane fisso Pum basta Poi ti resta Prego Flavia C'è l'attimo di silenzio Parla Agnesi La madre non ha più abbaiato Si è addormentata un'altra volta Aveva promesso che abbagliava Sulla dex Allora Ah sulla destra Allora ho fatto degli screenshot Quando c'è tanto fumo E mi è sembrato di vedere ancora qualcosa Poi fammi sapere Eh si si Anzi Se vuoi mandarmi anche gli screen Che hai fatto tu Maria Teresa Mannameli Che poi guardo anche quelli Ah Ha riabbaiato Eccola Vedi che ti metto alla prova Ogni tanto sai A me capita spesso di uscire in astrale involontario Eh si L'astrale involontario Diciamo che è quello che avviene più spesso A chi è portato a uscire in astrale Ecco grazie Pensavo che andava mantenuto Per tutto il tempo della strada Se sei tutto il tempo della strada E concentrata solo A visualizzare lo schermo Non fai più niente Perché stai concentrata solo lì Cioè mentalmente Si Io volontariamente Non ci riesco a riuscire Perché quando sento la divisione del corpo Il mio cuore va a mille E mi blocco È un classico di tantissimi Involontariamente mi capita Ma raramente ricordo Quelle poche volte Che mi rendo conto Che sei in astrale lucido Mi gaso Così tanto che rientro immediatamente Svegliandomi È successo anche a Dalione Ed è successo anche a Laura Conti Che stasera non appare Ma Sembra la stessa cosa Si emozionano E spariscono di nuovo dentro Cioè ci si protegge Immaginando tipo una bolla di protezione Che poi in astrale si materializza Esatto Esatto Proprio così Amor lo spiegheresti meglio Come tenere le vibrazioni basse Come farlo in pratica Beh normalmente le vibrazioni Noi le moduliamo Quando siamo capaci a utilizzarle Quindi Quando tu sai di avere Delle capacità particolari Come L'udito medianico La vista Sei anche capace A tenerle in uno stato In cui non funzionano Meno capacità Meno capacità hai In astrale Cioè meno capacità Usi E più tieni le vibrazioni basse Oltre al discorso dell'umore E delle emozioni Che devono essere piatte Se tu cominci a emozionarti Oltre al fatto che tanto poi Ti ritrovi nuovo nel corpo Perché ti sbatte in là Ma quando va bene Non ti ritrovi nel corpo Comunque Hai degli squilibri vibrazionali I dati dalle emozioni Quindi devi cercare sempre Di essere il più piatta possibile Ciao io non riesco proprio A uscire in astrale Ma guarda Lela che il 90% Della popolazione mondiale Non riesce Non è che Sia così semplice A uscire in astrale Io ce la faccio Eh? Io ce la faccio Tu ce la fai Lo so Anche io ce la faccio Ma noi siamo un po' Poi diversi Dalla media Buonanotte Flavia Sto crollando E recupero domani la diretta Tanto rimane sempre online Ma stasera Stiamo crollando un po' tutti E devo dire Che stasera È uno di quei lunedì Che Fa calare la palpebra Anche io Particolarmente Sonno Stasera Sì Buonanotte Giusi Stiamo crollando Un po' tutti Direi che Tra pochi minuti Do la buonanotte Anche Mua E me ne vado All'anana Perché tanto qua Stiamo tutti A crollare So poeta Allora Stasera Mi scrivo La lettera In un occhiano Per il caro demone Con candela Viola Va bene Perfetto Buonanotte 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 Sì infatti Vi lascio Anch'io Buonanotte a tutti Ti mando Screenshot Sì sì Maria Teresa Che li controllo Tanto poi Devo scaricare Questo video Caricarlo su youtube Il tempo che si fa Ci devo scrivere Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Curra di richiesta All'universo Ho capito Che fa in modo Che le vibrazioni Rimangano Stabili In realtà Non è proprio Un abbassare Le vibrazioni Ma è un Mantenerle stabili Che non abbiano Dei picchi Perché i picchi Vibrazionali Fanno da gran cassa È come se tu Suonassi su un tamburo E Gli altri Le altre entità Che vivono Di vibrazioni Se ne accorgono Se c'è questo Tam tam Hai mai incontrato Persone Che conosci Finastrale Che conosco No Ho incontrato Una signora Di una certa età Qualche tempo fa A casa di un'amica Che poi ho scoperto Essere la nonna Di questa amica Ma l'ho scoperto dopo Perché gli ho descritto A questa amica A questa donna Che era in casa sua E come glielo ho descritta Con quello che aveva addosso E tutto Mi dice Ma è mia nonna Che era vive e vegeta È la nonna E Abbiamo scoperto Che sua nonna Era andata A casa sua In astrale Però Ecco Non la conoscevo io Direttamente L'ho solo descritta A questa mia amica Che mi ha detto appunto Che era sua nonna Gli ho descritto Alcuni anelli Che aveva Alle dita E ha capito che parlavo Di sua nonna Buonanotte Marta E se uso L'olio di lavanda No No perché Quello lì È un olio mirato Se a quel demone Non piace La lavanda Non va bene Dipende Chi 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 è Se non sai Chi è È meglio L'olio evo Magari Non gli piace Neanche la lavanda Se incavola pure Buonanotte Isabel Ragazzi Diamoci la buonanotte Tutti Tanto sono spariti La metà buona Sono spariti Sì è meglio Che eviti Gli oli mirati Perché non sai mai Se piacciono Se non piacciono A meno che non sai già Che entità è E che tipo di Di aroma Ma gli gradisce Eccetera È meglio che eviti Se invece Io non ce la faccio più Questi capelli sciolti Io me li devo lega Oh Notte ragazzuole Notte Angie Notte madre Devo vedere Se ancora svegli Non mi risponde Sei addormentata Notte Erika Voglio vedere Se appare Con la buonanotte La madre Buonanotte Susanna Eccola È rimasta Sveglia tutto il tempo Ce l'ha fatta Comunque ce la faccio E a trascinarla In un'altra live Ma sei bella Grazie Danny Buonanotte Shaina Andrea Buonanotte Buon proseguimento Non so se il mio Demone Topersa E Marchiosas Marcosias So solo che mi piace Il gelsomino E il viola E allora Se hai l'olio Il gelsomino Va bene Sennò meglio L'olio Evo Come ti dicevo Notte Out Bau Miau Notte Tiziano Buonanotte a tutti Ci vediamo con i video Come al solito Tutte le sere E con la live Lunedì prossimo Mannaggia Non trovo tardi Allora notte Tesorina Buonanotte A volte Succede Buonanotte A tutti Ora scarico Aspetta che si scarica Linea permettendo Poi carico su Youtube E mi vado a legare La cocozza La cocozza Ciao